Grazie, signor Presidente e colleghi senatori. Ringrazio per il quesito che si ripete da ormai alcune settimane e mi consente di fornire chiaramente su un tema molto sentito ovviamente dai cittadini, dai sindaci dopo la sentenza da lei richiamata. Ritengo innanzitutto doveroso precisare che tale decisione riguarda soltanto l'uso dei dispositivi per le violazioni dei limiti di velocità, ma non tutti gli altri, esempio per la rivoluzione dell'ingresso abusivo nelle ZTL o per il passaggio con il semaforo rosso evidentemente. Tale precisazione è rilevante perché ricordo che nel disegno di legge di riforma del Codice della Strada che questo Senato ha già approvato e che contro la Camera approvi definitivamente entro settembre è stato inserito un articolo che rimodula le violazioni che possono essere sanzionate con l'uso di dispositivi senza contestazione immediata. Non mi soffermo sulla decisione quanto sulle soluzioni che come Ministro ho il dovere di approntare a stretto giro. Confermo che la messa a terra di tali soluzioni è legata al disegno di legge sulla sicurezza stradale di cui parlavo e aggiungo che lo scorso 3 settembre, quindi pochi giorni fa, ho comunicato direttamente a Lancia, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al Ministero dell'Interno e al Ministero del Made in Italy, che sono competenti sul tema autovelox insieme a me, l'intenzione di istituire presso il mio Ministero un tavolo tecnico di settore immediato, concreto ed efficace per la regolazione delle regole di base per l'omologazione di tutti i dispositivi strumentali compresi gli autovelox. Il tavolo coinvolgerà tutti gli attori a vario titolo competenti, l'auspicio è che con il supporto dei tecnici del settore si possano individuare le nuove regole sull'omologazione per arrivare a una soluzione del problema che abbiamo ereditato. Ribadisco che sul tema servono soluzioni equilibrate, l'ho ribadito anche ai sindaci, il mio obiettivo è di garantire che gli autovelox siano autorizzati per la sicurezza stradale in chiave di prevenzione e deterrenza e non come ulteriore gabella o tassa, magari su strade a due, tre, quattro corsie a basso tasso di incidentalità. Ricordo che la stessa linea di equilibrio e di buonsenso la stiamo conducendo sulle cosiddette zone a 30 all'ora che alcuni sindaci stanno applicando. la direttiva che ho firmato prevede che questa fissazione generalizzata di limiti di velocità inferiori a quelli previsti, quindi le zone a 30 all'ora, venga determinata dove ci sono pericoli o dove ci sono alti tassi di incidentalità motivati su alcune zone della città e non sul 60, 70, 80% della superficie cittadina, come ad esempio è accaduto a Bologna. Conferma il fatto che i 30 all'ora possano essere un problema anche ambientale, oltre che lavorativo di traffico, il recente studio del MIT, non il Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti di Piazza di Porta Pia Roma, ma del MIT di Boston. Quindi autovelox, ZTL, limitazione al traffico e zone a 30 all'ora utilizzate con buonsenso in zone parziali della città e non applicate con ideologia per combattere le auto che piaccia o non piaccia a molta gente servono per andare a lavorare.